C'è stato eh? Dani! Dani! Oh no! Se il mio dito è mezzolino cosa sei fatto? No, no, prendimi! Guarda che questo è da level out! C'è stato il mio dito! Perché? Stasera proprio! come sei messo stai fermo Vittorio continui a venire avanti e indietro con la testa cosa? cosa morti? come sono la fai? fumo una cica e abbiamo un altro munito tranquillità Luca Vita in canto è una noce distorta